Come è stato interpretare questo piano? È un po' un salto mortale perché ovviamente vai a riprendere un pezzo che è stato scritto tantissimi anni fa con una partitura completamente diversa da quello che si scrive oggi e con il mostro sacro della musica italiana che è un certo libro quindi è stata molta delicatezza, siamo stati dei chirurghi e devo ringraziare tutti i sindicali, ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me l'abbiamo registrato come i vecchi tempi, quindi in presa diretta con 40 musicisti di orchestra e la voce in diretta spero che si senta perché comunque abbiamo lasciato tutte quelle sportature che poi rendevano qualcosa unico Marco, tanti i tuoi colleghi cantanti stanno facendo il salto per diventare attori, ti piacerebbe fare una cosa all'Harry Styles, un ruolo da grande protagonista al cinema? Beh ci sto arrivando, ho già doppiato tre cartoni, tre film quindi mi sono un po' avvicinato, mi ero già avvicinato al cinema Francesco? Francesco Scuola